Inferno dantesco, canto quattordicesimo, versi 49 e 51 E quel medesimo spirito che si fu accorto, che io domandava il mio duca di lui, gridò, Quali io fui vivo, tal son morto. Parafrasi E quel medesimo spirito, che si era accorto, che io chiedevo sue notizie alla mia guida, gridò, Come io sono stato in vita, così rimango da morto. Commento In questa tersina dell'inferno assistiamo al diretto incontro tra Dante, Virgilio e Capaneo, uno dei sette re giganti che invasero Tebe e che venne dannato per l'eternità da Giove, Zeus per i romani, a causa delle sue malefatte e per non aver rispettato le divinità. Lo troviamo infatti nella boggia dei bestemmiatori. Come dice il personaggio stesso, lui non ha cambiato il suo atteggiamento, nonostante sia stato dannato in eterno, e proprio per questo, nei versi successivi, Virgilio lo ammonisce per non essersi pentito. Nel dipinto di Venturino, è infatti presente una figura rannicchiata e attorcigliata su se stessa, hai connotati ad alcuni tratti fisici particolarmente reformi e questo sta a significare quanto il corpo si reformi di fronte al male. Anche oggi molti sono animati dalla volontà di travolgere tutto e di non rispettare nessuna autorità, di non rispettare nessuna legge e questo li trasforma in qualcosa di negativo. Anche oggi non rispettare nessuna legge e questo,